La Juventus è una società che ha storia, che ha tradizione, è una società che sta questionando il presente e il futuro. Io oggi sono qui, sono qui per mettermi a disposizione della società, dei giocatori e per cercare di contribuire a continuare a vincere a questa società. La Juventus è una società che ha studiato, 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 che ha studiato. La Juventus è una società che ha studiato, che ha studiato, che ha studiato, che ha studiato, che ha studiato. Sono molto orgoglioso di allenare questi uomini, che credo alla fine sono uomini, che hanno dato tanto, che danno tanto e soprattutto hanno dato grande soddisfazione alla società e a tutti i tifosi. Allenatore Massimiliano!